Ciao creatura Eccoci come lo scorso giovedì qui con il catalogo Lidl ho un po' di graffi sulle mani perchè questa notte Sam mi ha morso cioè aveva voglia di giocare e mi ha svegliato tipo a luna di notte e ha iniziato a mordermi i piedi allora io con le mani l'ho fatta giocare però mi ha morso e mi ha graffiato perchè ho la pelle delicata non è che lei sia cattiva però vabbè adesso no Sam mi ha graffi devo fare il video domani mattina vabbè allora oggi abbiamo il catalogo Lidl offerte valide dal 21.01 al 27.01 McKennedy American Way scopri il sogno americano specialità a stelle e strisce ci siamo è venuto il momento finalmente finalmente Lidl torniamo con le cose a tema la spesa a tema che è la mia preferita e soprattutto quella americana è la più buona quella americana è anche quella orientale concordi? bene allora abbiamo McKennedy salse per condire panini insalate o accompagnare carne alla griglia e c'è la salsa per hamburger la salsa per sandwich non so cosa abbiano di diverso è quella barbecue che è l'unica che ho provato ed è buonissima un euro e ventinove poi abbiamo Bullet Pork McKennedy che mi fa voglia e vorrei tanto comprarlo un giorno che è arrosto di carne suina straggiata a tre euro e novantanove fammi sapere se tu l'hai provata e se mi la consigli se altrimenti dici no lascia stare i soldi spesi per niente lascia stare anch'io mi fiderò di te poi abbiamo i Cheesecake in tre diversi gusti è scelta 2 per 100 grammi alla confezione un euro e sessantanove e fanno tutti voglia credo di averli assaggiati ma non mi ricordo c'è il limone al raspberry rasbury come direbbe qualcuno e questo credo sia un mirtilli allora un po' di mirtilli e limone poi scusa mi sono accorta che forse sto leggendo troppo velocemente mi calmo che sono molto emozionata perché ho appena fatto un video ASMR con il 3D e ancora mi sembra che non sia vero che sia tutto un sogno poi abbiamo McKenna di sciroppo d'acero immancabile da mettere sui pancake l'ho comprato ancora l'altra volta che l'ho trovato in offerta che era rimasto lì in negozio costa 3,79 euro prezzo pieno e non l'avevo mai assaggiato ho dovuto assaggiarlo e ha un gusto veramente particolare pensavo fosse sono dolce invece ha comunque un altro gusto amaro secondo il mio punto di vista allora qui abbiamo filetto di petto di pollo con salsa dip al curry fa voglia 3,99 euro poi qui abbiamo tutte queste tre tortilla tortilla farcite il sapore del Tex-Mex direttamente a casa tua 2,49 euro allora abbiamo quello vecchi che probabilmente intuisco che non contiene carne ma è solo per i vegetariani vecchi dovrebbe essere vegetariani no? o vegani mi viene questo dubbio quindi aiutami poi abbiamo vecchi mi so che forse vegani vabbè abbiamo questo che c'è scritto lime and pepper beef quindi manzo aromatizzato al pepe lime credo e poi chicken salsa quindi con il pollo quindi pollo manzo e vegetariano o vegano ma credo vegetariano non lo so potrebbe essere anche vegano perché la tortiglia cioè non c'è niente di derivati di animali qui non credo che ci sia formaggio non credo che ci sia cos'altro non possono consumare non so non mi ricordo so che insomma potrebbe essere vegano poi fette di pancetta affumicata al miele queste le abbiamo prese le ho mangiate con alitara sono veramente buonissime a 2 euro e 49 poi fust affumicati di carne suina ecco questi fuster dentro questi barattoli con dell'acqua strana dentro non mi fanno per niente voglia 1 euro e 99 anche se i fuster mi piacciono però mi dà senso quell'acquetta poi abbiamo formaggio cuda a fette a 1 euro e 79 dico abbiamo però io non vendo non lavoro per il Lidl ecco per chi fosse nuovo io non lavoro per il Lidl dico abbiamo qui nel catalogo abbiamo io e te adesso che stiamo guardando carne di tacchino marinata anche questa mi fa voglia gusto speziato e affumicato 3 euro e 99 se l'hai assaggiato mi raccomando fammi sapere poi abbiamo costoletti di suino in marinatura e anche queste mi fanno voglia forse le ho prese credo di averle prese queste 3 euro e 99 da mangiare con il mio pappo e abbiamo preso queste barbecue se non sbaglio erano buonissime si si le ho prese sono buonissime queste però mi piacerebbe provare a imparare da zero fare le costolette l'unica cosa che non so ancora fare da imparare accidenti ok abbiamo pizza farcita stile americano non non mi è piaciuta ho fatto un video assaggio di questa qui che è l'olid cheese cioè carica di formaggio ma non è carica di formaggio sembra una margherita qualsiasi quindi bocciata e l'altro invece è peperoni qualcosa cosa perché non riesco a leggere perché è coperta c'è scritto gustose ricche di condimento ma non è vero se volete quelle ricche di condimento stile americano io consiglio l'epic america poi costano 1,99 euro quindi non vale proprio la pena poi c'è pizza bullet pork questa non l'ho vista non l'ho provata 1,99 euro questa la voglio provare con sfilacci di suino cipolle rosse salsa barbecue no questa la devo provare cioè ci sono c'è la carne che io amo la carne le cipolle rosse che io sto perito sono in fissa con le cipolle rosse e la salsa barbecue io sono in fissa con la salsa barbecue cioè voglio dire sono le mie cioè la mia pizza questa è pizza è desprendente manca solo la pelle del pollo arrosto poi cipolle impanatura croccante 1,29 euro da accompagnare con le salsi americane che così ti rivendono anche la salsa barbecue buonissima buone queste poi i bagels no i bagels il cane bagels con fiocchi d'avena con semi di sesamo classici da farcire a piacere a 0,99 ti dico la verità non li ho mai mangiati li ho provati a fare a casa una volta ma non è che non è che forse mi sono venuti male e non è che mi abbiano entusiasmato sono tipo dei pane però a forma di zambela non c'è niente di speciale a parte la cottura perché prima di metterli in forno bisogna farli bollire nell'acqua allora poi condimento per insalate diversi condimenti a scelita a 0,99 e da qui non riesco a leggere vedo solo una Caesar sour Caesar quindi una tipo quella per la Caesar Caesar salad però in versione sour cioè aspra poi una barbecue se non sbaglio e questa non riesco a leggere boh non lo so comunque non so e anche la Caesar non ho idea di cosa abbia all'interno quindi oh sono tornate le nostre fantastiche strisce di carne bovina in diversi gusti ricche di proteine a 1,29 euro allora sono buone ma per il prezzo non convengono perché 1,29 euro dentro ci sono tre pezzi in tutto quelle più buone sono quelle al miele e quelle piccanti si queste sono troppo di pepe non mi piacciono però ovviamente se ti piace il pepe prendile quelle original però non convengono sono troppo cari costano troppo ce ne sono troppo poche dentro poi cipolla rosto queste sono buone a 0,79 con la confezione richiudibile quindi ti durano una vita perfette su hamburger e hot dog e poi questi snack qui che sono buonissimi e che c'è scelta tra bulls snack snack di mais in due spiziosi gusti o snack a base di mais e patate gusto ketchup e curry barbecue allora ti dico le ho assaggiate tutte le più buone sono allora quelle mi ricordo più queste con le costine sono le più buone che hanno la scritta in giallo che adesso non riesco a leggere ma queste sono le più buone e le più buone tra queste due sono queste qui curry e barbecue flavor se vuoi comprarle a 0,99 io ti consiglio queste sono mega saporite e queste sono super anche queste saporite ma queste di più di tutti se ti piacciono le cose super saporite salate queste sono la vita e sapori più per persone adulte che per bambini ecco questa ha una consistenza fantastica oltre che al gusto e queste qui assomigliano molto alle wakos al ketchup quindi se ti piacciono ecco posso darti un'idea di cosa sanno poi snack a base di mais e arachidi buonissimi questi ma ci sono anche normalmente anche di marca non mckennedy a little a 1,79 comunque questo me lo ricompro anche queste io quando andrò e le troverò li comprerò ok poi andiamo con altre cose ok bevando a base di succo al gusto cranberry cranberry allora questo non è a base mirtillo rosso e non è non è zuccherato quindi sono super aspro è super aspra e amara quindi quando andrai ad assaperla a comprarla metti in conto che non è zuccherata è super aspra è amara quindi attenzione 1,29 euro io l'ho presa l'ho bevuta l'ho bevuta così senza niente ma è difficilissimo da mandare giù però mi sono challenge ho fatto la challenge da sola e l'ho bevuta poi succo di più frutti mela mirtilli rossi e mela grana mirtilli a 1,79 euro questo non mi ho provato non ti so dire 0,79 birra daf non è niente di speciale non la consiglio cioè se volete fare la serata così alternativa e dire wow mi provo la daf ma non è nulla di che poi preparato per pancake l'ho provato non vengono tanto bene vi conviene farli a casa da zero 1,49 euro non lo consiglio poi burro di arachidi buonissimo smoothie o crunchy a 3,49 euro io li ho provati entrambi e preferisco quello crunchy perché quello smooth che è solo cioè quello crunchy ai pezzettini questo invece è liscio per dire questo impasta tanto la bocca si fa fatica a mangiare invece quello con i pezzettini è più facile da mangiare ed è comunque il gusto è sempre quello è buono è burro di arachidi pancake a 1,69 euro sono quelli surgelati e provali sia con il dolce che con il salato ci dice non li ho mai provati non so dire poi barbecue marshmallow a 1,29 euro sono quelli grossi da sprucciacchiare fargli fare la crosticina e dentro si sciolgono ma non li ho mai provati di questa marca non vado matta per questo tipo di dolce è troppo dolce per me è troppo stucchevole li mangio uno e poi dopo che finisce la confezione boh perché non ce la faccio non fare avanti popcorn caramellati a 1,99 euro e allora ti dico ho assaggiato quelli da fare in microonde che credo siano questi sono sempre in sacchetto quelli caramellati non mi piacciono tanto sarà che mi piace più il salato che il dolce però preferisco quelli al burro sono i miei preferiti popcorn al burro da fare in microonde della marca mckennedy che non li hanno più fatti infatti non li vedo neanche adesso che peccato vabbè 1,99 euro si vede che gli piacevano solo a me poi popcorn caramellati questi sono 250 grammi e è un secchiellone invece qui sono in sacchetto li ho provati non sono niente male questi qui in sacchetto però se ti piace se sei goloso di dolci si prendili se no no si è stare sono tanto stocchevoli poi abbiamo questi arachidi che ho assaggiato sono veramente buoni a 0,79 centesimi ricoperti con diverse croccanti pastelle io ho assaggiato questa al gusto hamburger e devo dire che sono veramente buonissimi e questi non so cosa abbiano sour cream buoni e questo cos'è tipo barbecue qualcosa allora penso che la prossima volta andrò a prendere questo al barbecue e anche mio padre se erano piaciuti molto tutti questi qui all'hamburger se li ha finiti lui quando li ha scoperti li avevo comprati per fare i video assaggi poi li avevo lasciati nel cassetto e se li ha mangiati tutti lui poi che mio papà ha gusti difficili a parte quando si può rubare del cibo che chi mi segue nell'altro canale sa già la storia allora poi preparato per muffin a 1,49 euro non l'ho mai provato quindi non posso dire la mia opinione però i muffin sono talmente tanto semplici da fare in casa che non è da comprare neanche preparato poi yogurt stile americano questi sono buonissimi e consigliatissimi pressa anche buono a 0,49 per una pausa collosa durante la giornata sono tutti buonissimi quello più buono è quello ai cookies secondo me però sono tutti da provare specialmente se questi a questi gusti tipo chocolate muffin cookies e questi dolci cioè questi dolci qui proprio dolci inteso come torte provateli buonissimi poi abbiamo questi milkshake per una pausa dolci in ogni momento a 69 centesimi non li ho mai provati non li ho proprio neanche visti ma quest'estate vorrei comprarmi il magic bullet e mi li farò io poi i mini brownie non li ho mai provati mi sono fatte brownie a casa da zero e sono buonissimi questi qui comprati nel negozio non li ho mai provati 1,29 euro e i mini muffin anche 1,49 euro anche questi non li ho mai provati ma i muffin sono buoni cioè voglio dire poi abbiamo country cookies golosi biscotti da gustare in ogni momento 1,49 euro mi piace molto la confezione perché sembra una confezione di latte dal disegno dopo non so se è rigida o se è tipo la la confezione della farina e il packaging è molto impitante devo dire sono biscotti dolci e questo è tipo sembra quasi uno strudel di mele questi dark chocolate e macadamio questi mi fanno voglissima anche questi anche se non riesco a leggere cosa c'è non è solo cranberry qualcosa fanno voglia questi se c'è la cannella no però cheesecake 3 dessert a base di preparazione al latte e panna questi fanno voglia 1,79 euro mai provati le caramelle jelly beans le ho provate 1,29 euro molto buone hanno un sacco di gusti poi e in tanti diversi gusti la frutta e la pesca è quella più buona ecco qua che anche la Mc Kennedy propone la pizza al cioccolato come quella della cameo non l'ho mai provata nessuna delle due marche è una combinazione di dolcezza irresistibile 1,99 euro non riuscire a mangiare una fetta poi sarei stomaccata quindi non sto a comprarla ma a vista così fa voglia però so già che ho gli occhi più grandi della bocca quindi mangerai una fetta poi mi sentirai sazia perché riesco a mangiare tante cose salate ma dolci ne ho faccio molta fatica torta brownie al cacao fa voglia 2,99 euro un vero trionfo di cioccolato e basta e con le cose di McKennedy abbiamo finito qua ci sono le solite offerte qualità freschessa convenienza macelleria le offerte del lunedì le offerte di giovedì le offerte settimanali da lunedì a domenica bontà e amore per la terra belli questi non li ho mai visti questa marca qua è nuova no è combino ha già in realtà ha visto già la pasta però questi qua hanno un nuovo packaging poi super mercoledì offerte valide solo mercoledì 23 gennaio da giovedì 24 gennaio stiamo facendo una solo un giro di di pagine perché mi piace sua c'è casa pulita tutto per le pulizie in casa che bello set c'è verde abbiamo delle c'è agave aloe oh l'aloe vorrei comprarme ma non posso con Sam perché mi mangia tutto che belli questi fiori no quanto vorrei avere poter piantare delle piante senza che Sam va Sam mamma mia un pezzo di un cane mi scava tutte le le piante scava dentro la terra poi ci vuole la pipì muoiono perché i gatti hanno la pipì acida cucinare che passione c'è un microonde a 49 euro una mini aspirapolvere liquidi wow e un set di coltelli che bello tagliare non c'entrano vedi che poi hanno un bollitore elettrico che mi hanno detto è molto funzionale cioè scaldare acqua in pochissimo tempo poi una piastra per waffle un forno elettrico un tostapane bello sopra il mio una pentola in acciaio sacchetti per sottovuoto frullatore cook and mix wow no io voglio il magic bullet mi si piace aspiratore per sottovuoto padella per crepe ecco il tagliare da cucina me lo compro perché il mio è tutto segnato dopo un tot che si segna bisogna cambiarlo perché non è igienico set contenitore salva freschezza in vetro no niente in vetro no perché è pesantissimo io non riesco a a posto cioè si riesco però è più incombrante da portare in giro però si puliscono meglio in vetro poi utensili da cucina non mi servono questi in particolare poi utensili da cucina di questo tipo poi contenitori porta posate tappetino anti scivolo asciugapiatti radio sotto pensili da cucina non sapevo che esistesse trolley porta spesa no bellissimo non sapevo che esistesse poi è meglio per i vostri bambini cotone più logico ok altre cose per i bambini poi cristalli da bagno cosa sono i cristalli da bagno? concediti il piacere di una beauty routine sia in casa tua una gamma pensata per la cura del corpo dalla testa ai piedi che propone prodotti smart e dalla qualità comprovata per un bagno o una doccia rilassante arricchiti da ingredienti che fanno bene alla pelle e dalle piacevoli profumazioni burro corpo burro corpo sembra burro beer pompa da bagno bagno doccia bagno schiuma perle da bagno i cristalli da bagno forse vanno nella vasca da bagno che io non ho e quindi niente però guarda questo burro corpo al cocco hanno stati furbi hanno messo quello al cocco davanti lo voglio compremi 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 devo provare col 3D o fraffo fai compremi e basta super weekend offerte valide da sabato 26 domenica domenica 27 gennaio c'è lo spritz no non ci credo non ci credo lo spritz ok grazie per aver visto questo video scusa se magari non ero inquadrata bene ma spero che comunque di averti fatto rilassare di essere stata utile e di averti entrato in lube ci vediamo con il video di domenica un altro gameplay di non so cosa perché devo ancora filmarlo ciao creatura ciao buonanotte 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 ciao creatura